Bene, stiamo a Silvi, ma ci spostiamo un po' nella location e nell'argomento, perché andiamo al campo Ughetto di Silvio, da dove sono arrivate questa mattina delle immagini veramente confortanti. Le commentiamo insieme con Massimo Profeta, parliamo di calcio, parliamo del Pescara. Buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio, cari, a te e a tutti gli amici di Visione Ascolto, sì, è tornato Zeman a guidare la squadra, a guidare, a dirigere la seduta di allenamento, oggi la ripresa dei lavori in vista della partita interna con la Fermana, sabato ore 20.45 sarà l'ultimo appuntamento del 2023, stiamo guardando proprio queste immagini con Zeman, insomma ci sembra che abbia reagito bene a questo periodo difficile. Ricordiamo una settimana fa il malore, il grande spavento, c'è stato un grande affetto da parte di tutto il mondo del calcio, insomma da parte, diciamo, dei tifosi biancazzurri, degli estimatori di Zeman, di tutti quanti, davvero. Eccolo qui, Zeman che ha diretto, ripetiamo, la prima seduta di allenamento dopo il malore di una settimana fa, è rimasto per una parte della sessione in panchina durante il lavoro atletico della squadra, dando sempre comunque suggerimenti al suo fianco e l'ADS del Icari con cui ho parlato proprio poco fa e poi quando si è trattato così di dare anche, diciamo, dei suggerimenti per la parte tecnica è stato in piedi, come possiamo vedere anche in questa immagine, è rimasto in piedi a lungo, quindi diciamo un'ora e quaranta in cui Zeman sembra che, insomma, abbia fatto tutto quello che faceva prima, prima di questo malore, lieve malore in ischemia transitoria. Ecco, adesso Massimo tutti si chiedono, ma andrà in panchina? Ecco, allora, noi siamo sempre condizionali, quanto mai rigore, dovrebbe tornare in panchina sabato, lui si è detto ottimista, vuole tornare in panchina, dal resto, insomma, anche i medici hanno detto se sta bene lo può fare, può tornare in panchina sabato e quindi vedremo, vedremo l'evoluzione che è positiva in questo momento, insomma, Zeman sta meglio, dal resto oggi è tornato a dirigere la seduta della sua squadra, la squadra tra l'altro era entusiasta, anche questo è importante perché, insomma, Zeman, la presenza di Zeman, è chiaro che la salute è prima di ogni cosa, ci mancherebbe, però è importante per il carisma che trasmette Zeman anche ai suoi ragazzi, i ragazzi erano davvero entusiasti. Sono novità per la gara con la Fermano, ho letto già dal titolo dell'articolo che hai pubblicato poco fa. Sì, sono fermi Aloi e da Cornero, naturalmente, per quanto riguarda Aloi, vedremo se è un problema serio, comunque, insomma, un fastidio al quadricipite della coscia a destra, domani un'ecografia di controllo per l'ex Avellino, per quanto riguarda Cornero, invece, ha subito un colpo al ginocchio nella parte finale della sfida di Ancona, è entrato proprio in corso d'opera l'attaccante di proprietà del Genoa e domani si sottoporrà a risonanza magnetica. Brosco ha svolto una prima parte dell'allenamento, appunto, la parte atletica con il gruppo e poi ha rinunciato alle esercitazioni tecniche perché è ancora alle prese con un'infiammazione al ginocchio che si porta dietro da qualche settimana, però non desta preoccupazioni. Lavoro a parte per Pellacani, o meglio, per Franchini, Pellacani è stato operato ieri dal dottor Tavoglieri, lo rivedremo a fine gennaio, menisco interno del ginocchio destro, invece, per quanto riguarda Franchini, lavoro differenziato, procede, diciamo, il suo recupero, diciamo che si spera di riaverlo, Zeman spera di riaverlo per la partita esterna di Alessandria contro la Juventus Under-23, partita in programma il 7 gennaio alla ripresa del campionato che inizia alle 14.